buongiorno a tutti oggi io voglio voi presentare nuova motiva trecia si può usare di per tutto ragazze e maglioni cardigane estive invernale nostra schema 18 mali a come facciamo conti anche qui ma le quali rovescio 20 però io faccio vedere solo questa motiva rovescio voi potete mettere quanto per voi bisogno 1 2 3 4 è solo questo schema io faccio faccio vedere questa parte di diritto guardate che bellezza questa parte di rovescio anche parte di rovescio guardate è carino perciò secondo me si può fare anche per si può fare anche copertine e questa parte ancora di diritto e adesso noi camminciamo con voi con giro dal giro numero uno nostra schema fa vedere anche questa rovescio io non faccio voi vedere rovescio solo questa io già ho detto cominciamo primo giro prima maglia un gittato tre diritti un diritto secondo diritto terza diritto due insieme verso sinistra 8 mali diritti uno due tre quattro cinque sei sette otto due mali insieme verso a destra due mali così a destra 3 diritti un diritto secondo diritto terza diritto un gittato e questa mia rovescio abbiamo fatto giro numero uno giro numero due facciamo da sole tutti i mali vanno rovescio compreso compresa ma le quali un gittati ci vediamo nel giro numero 3 giro numero 3 un diritto un gittato tre diritti un diritto secondo diritto terza diritto due insieme verso a destra se diritto 16 16 18 18 18 18 18 18 20 20 19 21 23 20 21 ungitato, diritto, queste nostre 18 maglie, giro numero 3, giro numero 4 facciamo da soli e ci vediamo nel giro numero 5, giro numero 5, due diritti, un diritto, secondo diritto, ungitato, tre diritti, un diritto, secondo diritto, terzo diritto, due insieme verso sinistra, quattro diritti, un diritto, secondo diritto, terzo diritto, quarto diritto, due insieme verso sinistra, verso a destra, chiedo scusa ho sbagliato, tre diritti, un diritto, secondo diritto, terzo diritto, ungitato, due diritti, un diritto, secondo diritto, ci vediamo nel giro numero 7, giro numero 7, tre diritti, un diritto, secondo diritto, terzo diritto, ungitato, tre diritti, un diritto, secondo diritto, due insieme verso sinistra, due diritti, un diritto, secondo diritto, due insieme verso a destra, tre diritti, un diritto, secondo diritto, terzo diritto, un gitato, tre diritti, un diritto, secondo diritto, terzo diritto. Abbiamo fatto giro numero sette, giro numero otto facciamo da soli e ci vediamo nel giro numero nove. Giro numero nove. Quattro diritti, un diritto, secondo, terza, quarto, un gitato, tre diritti, uno, due, tre, due mali insieme verso sinistra, due mali insieme verso a destra, tre diritti, uno, due, tre, un gitato, quattro diritti, uno, due, tre, quattro. Abbiamo fatto giro numero nove. Giro numero dieci facciamo da soli e ci vediamo nel giro numero undici. Giro numero undici, cinque diritti, uno, due, tre, quattro, cinque e adesso noi abbiamo questi quattro mali, dobbiamo crociare. Io non uso ferro usiliare, e io faccio con mia maniera, consiglio anche voi. Io questi due sposto, altri due io faccio diritti, dopo io giro, prendo questi due mali e cambio posizione. Giro e questi mali quali erano spostati, io faccio loro diritti. Ecco, adesso dobbiamo crociare altra parte. Questa volta io prendo questi due mali, sposto, questi altri due mali con quali io devo crociare. Dopo io prendo questi due mali, quali davanti, guardate, esco e dopo entro dentro questi due mali. Già crociato, oppure cambiata posizione. E faccio anche questi faccio diritti. Ho fatto. E facciamo cinque diritti. Uno, due, tre, quattro, cinque. Abbiamo fatto giro numero undici. Giro numero dodici, parte di rovescio, facciamo da sole. Nostri giri già finiti. Da questa parte e su noi abbiamo fatto insieme con voi. E adesso noi già abbiamo fatto giro numero dodici dalla parte di rovescio e adesso noi dobbiamo cominciare dal giro numero uno. Schema adesso io faccio voi vedere e guardate come viene bellezza. Però volevo dire altra cosa. Io ho crociato questa parte. Voi provate a crociare altra parte. Ragazzi, sempre bisogna fare un po' cambiamento. Non cambiamento, prove. Sempre bisogna fare prove. Una cosa, cosa schema. Però sempre si può provare cosa piace a voi. Non dovete avere paura. Qui non fate male a nessuno. E adesso faccio vedere voi schema. Questa nostra schema. Questa nostra schema. 18 male. Come voi vedete io non ho mica fatto quante parti di rovescio. Davanti e indietro. Quanti voi bisogna rovesci? Già dopo dipende dalla vostra fantasia. Però come voi volete fare, continuare questa fare schema, senz'altro bisogna mettere rovescio. Io ho fatto voi vedere questi 18 male solo di questa treccia. Solo questa. È tutto ragazzi. Semplicissimo come voi vedete. È molto molto bello. Adesso voi fate screenshot così rimane nella vostra memoria. È tutto ragazzi. Io auguro voi buon salute, fortuna e buon lavoro. Grazie a tutti.